No, no, con quelli. Con tramezzina. Buonasera, amici. Chiedo scusa per il video di ieri che è venuto una pizza. No, me ne fai uno. Ci stiamo facendo dei panini con la cioccolata. E qui? Ci sta il liquore al cioccolata. Puoi fare se un tramezzina com'è? Niente, praticamente la scheda ieri ha registrato perché sulla videocamera mi usciva. Poi vado per caricare il video e non c'erano più i video. Poi tramite dei programmi sono riuscito a recuperare il design. Solo quello della camera da letto. Quello che devo fare gli effetti, il salto. Quante cose belle, non so se io... I salti sul lezzo. La gara che ho vinto. Hai perso. Ho vinto. Hai perso, dici così solo perché nessuno può vederlo. Ma tanto possiamo vedere il tuo carico che ti ho fatto perso. La catella verde. Allora ragazzi, cosa dire? Bene, il liquore al cioccolato è pronto. E' solo dolci degustazioni che rendono la vita palpabile. Minchia. Ho fatto un video poco fa, poco anzi. Lo vedete su Facebook. Anzi, io lo metterò stasera che è 29. Spero questo video andrà avanti domani. Ok. Sono stanco. Ok ragazzi, abbiamo finito con le riprese. E ora siamo all'intelizia. Vi ricordo il canale. Lucia di Giorgio. Canale di cucina. E ora io mi sto gustando il liquore al cioccolato. Chi è? Ma perché ti scorchi il naso? Anche il naso vuole la sua parte. E ci siamo fatti una bella bottiglia e mezza. Tutta per me. mi raccomando andate a visitare il mio canale e condividete mettete un mi piace dai che non ti è piaciuto è andato fino al cioccolato sono appena tornato ho appena sceso il cane dove vai? gli alberi li spegne un attimino che ci da pulire un qualche vedete vogliamo i trucchi si e così il mio cugino vincenzo è fan di un certo zeb malisce mille mele su dicio vero vincenzo? malisce mille mele liscia mille mele cioè vuol dire le palle no? beh tutti noi diamo al nino eh malisce mille mele quando si comporta da signorinella no? beh quanto è bello quando si è cittacente beh invece quando fa la pavoncella deve avere un succo di mazzate guarda 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 la stiamo violentando proprio ragazzi fratelli amici sconosciuti la prima la seconda la sette la seconda la terza e la quarta se il solito è esagerato eh esagerato ma te ne potete mettere un cappotto come si deve posso uscire così vedi? tu queste cose qui non capisci vedi? i quattro strati invernali vedi? e poi sta non vedi così vedi? può uscire anche così? si si vero ragazzi? può uscire così? no direi proprio di no oh che solda che abbiamo ragazzi che solda che solda che solda che solda che solda che solda mi verrebbe voglia di essere un beppe grill è morto cavallo è morto cavallo è morto cavallo è morto cavallo ok ho intenzione di mettere in ogni stanza una videocamera e poi facciamo un organo cavallo no così tipo video sorveglianza vedi ci mettiamo? no così quando uno viene che va in bagno possiamo anche espirarli ma se si mamma mia no ah c'è anche il cappello così basta ok ti senti troppo c'è un affanno a me mi chiamano è il fungo è il fungo ok ok c'è la batteria scarica la macchina il video di oggi termina qui iscrivetevi al canale commentate condividete mettete un mi piace non ti si può vedere con quel cappello perché? adesso così puoi così puoi finire qua puoi finire là va bene ragazzi ti saluti ciao a tutti buonanotte ciao ciao qui 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 qui